grande partecipazione alla camminata in rosa organizzata a omegna dalla lilt vco abbracciati da una luminosa giornata di sole i partecipanti sono partiti alle 14 di oggi sabato 5 ottobre da piazza martiri accanto al monumento ai caduti e pian piano passo dopo passo porteranno in giro per la città sentimenti di speranza e solidarietà a